Una valutazione di tutti gli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti, la modifica del regolamento dei tributi locali e la chiusura del rapporto con Asso Servizi seguendo le procedure idonee a tutelare gli interessi dei cittadini e dell'ente. Questo, in sintesi, il contenuto della mozione preziosi condivisa da tutti i capigruppo che ha messo d'accordo maggioranza e opposizione. Ieri sera dunque il Consiglio Comunale, almeno si spera, ha chiuso la discussione sul caso Asso Servizi, cartelle pazze e modalità di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, lasciando spazio, anche questo lo si spera vivamente, ad una fase più concreta, fatta di soluzioni pratiche e minore superficialità. All'accordo, raggiunto dopo oltre un'ora e mezza di sospensione però, non sono mancate delle critiche sul metodo espresse dal consigliere Miro e sull'iter seguito da parte di Giordano che ha sottolineato le perplessità ancora intatte sull'inadeguatezza dell'azione messa in campo dall'amministrazione, che se da un lato ha spiegato, attraverso il segretario commissario di fatto e ragioniere capo, dall'altro non sembra andare risolutamente verso la chiusura del rapporto. A seguire, la mozione presentata da Gianluca Festa sul lato, con la richiesta che sia un soggetto unico e pubblico a gestire il servizio rifiuti. L'obiettivo, ha detto Festa, è quello di avere un governo pubblico che porti ad un abbassamento dei costi per i cittadini. La mozione è passata registrando però la netta contrarietà di Barbara Matetic e di Adriana Percopo, che hanno ritenuto la proposta irrispettosa del lavoro fatto finora dai sindaci e dal presidente Bianchino.